Un nodo strategico, un'opera ultimata in anticipo e riconsegnata a servizio della comunità. E' stata inaugurata e riaperta al traffico la tratta della strada provinciale 33 Andrea Bisceglie. I lavori, realizzati grazie al supporto e al finanziamento della Regione Puglia con 3 milioni di euro e della provincia Bat con 440 mila euro, hanno interessato l'ammodernamento, l'ampliamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della strada, con l'obiettivo di scongiurare altri tragici incidenti come quelli avvenuti sulla tratta in passato. Ed è proprio alle famiglie delle vittime che han dato il pensiero del presidente della provincia Bat, Nicola Giorgino, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione. La consegna ultima dei lavori assicurati dall'impresa dei Filippis era stata stabilita per il prossimo 28 giugno, ma la riapertura della tratta è avvenuta in anticipo, anche perché la strada è stata comunque abitualmente percorsa dagli automobilisti, non curanti del rispetto della legge. La conclusione doveva venire entro il 28 giugno 2018 è stata anticipata, anche perché devo dire, purtroppo, e questo mi rammarico, l'inciviltà dei cittadini, nonostante il cantiere, quindi la presenza del cantiere, comunque hanno ripreso a percorrere, perché hanno trovato il varco per poterla percorrere, per cui l'impresa molto abilmente è stata in grado di anticipare la consegna dei lavori e stanno completando alcune cose complementari che non rientravano nel progetto originario, come il montaggio del guardrail nella parte prospicente della curva, che è la parte più pericolosa, nonché nella parte prospicente un'altra curva in direzione Andria, in modo tale da agevolare la percorribilità da parte di coloro che la percorrono. Credo che sia un'opera strategica. Le infrastrutture sono fondamentali per l'accesso, l'accessibilità dei territori, quindi fondamentali per l'economia di un territorio. Qui manca ancora un tratto, di tre chilometri e mezzo sarà necessario completare l'infrastruttura. Se i cittadini hanno incominciato a usarla già quando c'era il cantiere, vuol dire che se ne sentiva proprio l'esigenza. Quindi delle strade c'è sempre la necessità e l'accessibilità garantisce l'economia. Grazie. 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 Grazie.